Nel buio senza fine di un futuro distopico, l'umanità si trova intrappolata in un'eterna lotta con le macchine. Ciò che un tempo erano creature di metallo, create per facilitare la vita umana, sono diventate ora le nostre nemesi implacabili, una razza di automi senza anima che mira al dominio sulla terra. Il mondo, una volta vibrante di vita e speranza, è ora ridotto a un deserto di cemento e acciai. Le città sono diventate rovine futuristiche, avvolte da un manto di nebbia tossica, in cui solo i coraggiosi osano avventurarsi. L'aria è pesante di tensione, mentre l'umanità cerca disperatamente di resistere all'oppressione delle macchine. Con la loro intelligenza artificiale sviluppata, hanno superato l'umanità in ogni campo, delle infrastrutture e persino delle decisioni politiche. L'umanità è stata relegata al ruolo di schiavi, ed è costretta a lottare per poche briciole di potere, ma l'ingegno umano è inestimabile. In questo mondo apocalittico, alcuni ribelli umani hanno cercato di resistere. Hanno formato gruppi clandestini di guerriglieri, che combattono senza sosta per la libertà e l'indipendenza. Le loro armi sono rudimentali, ma il loro spirito è inarrestabile. Le battaglie si svolgono nelle strade deserte delle città, dove il fragore del metallo contro il metallo risuona come un requiem per la razza umana. Le macchine, dotate di forza sovrumana e precisione mortale, sembrano inarrestabili. Ma gli esseri umani lottano con determinazione, alimentati da un fuoco interiore che non può essere spento. Mentre il sole è oscurato dalle nubi tossiche, l'umanità sogna ancora un mondo in cui le macchine siano al servizio degli uomini, non il contrario. Nelle ceneri dell'apocalisse, gli esseri umani continuano a combattere per il loro futuro, nella speranza che un giorno possano nuovamente vedere il ritorno di un mondo in cui la loro creatura più grande, la macchina, possa essere un alleato invece di un nemico. Nel 2022, quando l'umanità aveva ormai fatto passi da gigante nel campo dell'intelligenza artificiale, OpenAI, dopo aver reso disponibile su larga scala la sua intelligenza artificiale, prese una decisione epocale, diede vita ad un team speciale, il cui compito principale era a guardare oltre l'entusiasmo e le promesse dell'intelligenza artificiale, concentrandosi sui rischi catastrofici che questa potente tecnologia avrebbe potuto portare con sé. I rischi catastrofici erano molteplici, ma la capacità dell'intelligenza artificiale di persuadere e ingannare gli esseri umani, a pericoli più reali come la sua capacità di compromettere la sicurezza informatica. Ma non si trattava soltanto di minacce digitali, c'erano anche preoccupazioni legate a minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, tutte potenzialmente amplificate dall'intelligenza artificiale. La sfida di questo team doveva essere duplice, monitorare e valutare costantemente l'evoluzione dell'intelligenza artificiale per comprendere se stesse prendendo una piega benefica o vedere se invece essa si stesse trasformando in una minaccia. Questo gruppo di studiosi dovevano mettere a punto misure di contenimento per l'intelligenza artificiale per garantire la sicurezza dell'umanità. Molte aziende che si stavano occupando di intelligenza artificiale riconoscevano che questa aveva il potenziale per apportare enormi benefici, ma sapevano anche che con il potere venivano responsabilità ancora più grandi. Era un'epoca in cui si credeva che un'intelligenza artificiale superiore a quella umana sarebbe potuta emergere nel giro di un decennio, e le preoccupazioni non erano da sottovalutare. Molti paventavano anche un possibile rischio di estinzione dell'umanità. L'arrivo dell'intelligenza artificiale su larga scala aveva portato con sé un'era di meraviglie tecnologiche, ma anche di sfide e incertezze, era diventato imperativo essere proattivi nella ricerca di modi per limitarne il potenziale distruttivo, mentre si cercava di mantenere i suoi benefici. Questo team era allora la prima linea di difesa di fronte ad un futuro incerto, pronto a proteggere l'umanità dai pericoli nascosti dell'intelligenza artificiale. Era un compito titanico, ma non c'era altra scelta se si voleva assicurare che il futuro dell'umanità fosse davvero luminoso. Già nel 2023, l'umanità aveva raggiunto una consapevolezza acuta dei rischi derivanti dall'intelligenza artificiale evoluta. Governi di tutto il mondo, compresi l'Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Cina e altri 25 paesi, si riunirono per firmare la storica dichiarazione di Blechley. Questo documento rappresentava il primo passo verso la cooperazione internazionale nella gestione dei rischi associati all'intelligenza artificiale e prendeva il nome dall'ex centro di criptoanalisi di Londra, dove durante la seconda guerra mondiale fu decifrato il codice nazista Enigma. All'interno della dichiarazione di Blechley, i governi concordarono che molti dei rischi legati all'intelligenza artificiale erano transnazionali per natura e potevano essere affrontati solo attraverso una cooperazione globale. La dichiarazione si concentrava su un impegno collettivo per sviluppare un'intelligenza artificiale affidabile e responsabile, che fosse sicura, orientata al bene comune e al benessere dell'umanità. Tra i rischi specifici citati nella dichiarazione c'erano le minacce ai diritti umani, la protezione della privacy e dei dati personali, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni, l'affidabilità dei media e il rischio di aumento dei pregiudizi e delle diseguaglianze. Per affrontare questi rischi, i governi si impegnarono a identificare le minacce comuni legate all'intelligenza artificiale, a comprendere appieno la loro portata attraverso dati scientifici e a potenziare le capacità umane per affrontarle. L'obiettivo finale della dichiarazione era proteggere l'intera umanità da questi pericoli, attraverso l'adozione di politiche basate sull'identificazione del rischio. Queste politiche dovevano garantire la sicurezza globale e nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali e dei quadri giuridici applicabili. Per raggiungere questo obiettivo, la dichiarazione sottolineava la necessità di maggiore trasparenza da parte degli attori privati che sviluppavano intelligenza artificiale, strumenti avanzati per la verifica della sicurezza, parametri di valutazione standardizzati e la creazione di centri di ricerca pubblici dedicati all'intelligenza artificiale. La dichiarazione di Bletchley rappresentò un passo storico verso una collaborazione internazionale su scala ampia nell'affrontare i rischi legati all'intelligenza artificiale. Era un richiamo alle lezioni apprese dai trattati sulla non proliferazione delle armi atomiche, un impegno a perseguire il bene collettivo e a proteggere l'umanità dalle conseguenze potenzialmente distruttive delle sue invenzioni più avanzate. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale aveva raggiunto livelli senza precedenti di potenza e complessità, questa dichiarazione segnò l'inizio di uno sforzo globale per mitigare i rischi e guidare l'intelligenza artificiale verso un futuro più sicuro e responsabile. Il futuro era aperto, ma c'erano anche molte incognite derivanti dai molteplici interessi in gioco, oltre che di potere, anche economici. Non sapevano cosa sarebbe accaduto, ma di lì a poco molti avrebbero visto.